Rubavano auto e scooter dai concessionari per poi usarli come erieti e sfondare vetrate saracinesche di sale e slot e negozi di ottica e telefonia che ogni volta fruttavano dai 4 ai 5 mila euro di rifurtiva. L'operazione coordinata dalla procura di Firenze ha però messo fine alle attività criminali della banda composta da sette soggetti grazie al lavoro coordinato di numerosi comandi provinciali dei carabinieri. Gli arrestati, tutti residenti a Montecatini, avevano colpito in quasi tutto il centro nord Italia e per qualche mese anche all'estero. Numerosi anche colpi messi a segno nella nostra provincia tra cui quelli alle concessionarie Domenichini e Autosì, a due sale slot di Torre del Lago e Lunata e al negozio centro ottica dell'Arancio. In tutti i casi il modus operandi era il medesimo. Direi un'importante risposta data dall'arma a un fenomeno che stava assumendo ormai una certa pericolosità, aveva determinato un allarme sociale e quindi è stata sgominata questa banda costituita da sette persone, sei di nazionalità rumena e un albanese, che aveva come compito specifico quello di effettuare rapine alle sale slot e furti agli esercizi commerciali e autoconcessionari di auto. Un'operazione che ha messo fine a questa attività criminale che ha avuto risvolti violenti in numerosi episodi. Sì, parliamo di soggetti abbastanza spericolati da un punto di vista anche criminale, nel senso che se per caso ingaggiavano le forze di polizia, li trovavano per strada, ne scaturivano pericolosi inseguimenti, alcuni terminati anche con capotamenti di macchine e danni vari. Fortunatamente nessun danno alle persone, ma comunque è assolutamente un pericolo notevole anche per la circolazione stradale.